C'è stato un momento, quando ho avuto la bambina mia, la mia bambina, che è stato un momento che mi ha cambiato un po', in modo di, responsabilizzato diciamo, ma in modo veramente tanto, si cambia, si vedono tante cose nuove quando hai un bambino da tirare su, si vedono anche gli sbagli che fai, magari te ne accorgi dopo, più avanti però, se io facevo così forse era meglio, capito? Tu dici dentro di te, ho sbagliato, c'è stata una volta che mia figlia, stavamo parlando e mia figlia, papà, dice, guarda che le cose stanno così, adesso non ricordo più la discussione, no? No, stanno così, dicevo io, volevo spiegarle che, avevo alzato un po' la voce io, allora questa bambina, ha pianto, piangeva, no? Improvvisamente io ho capito che avevo sbagliato, e gliel'ho detto subito, Elena scusami tanto bella, ho sbagliato io e tu non devi piangere perché la colpa è la mia, e lei mi ha abbracciato, come dire, grazie papà che hai riconosciuto, che hai sbagliato.